Buongiorno, Mirè e Fabio, questa è una lezione per voi. Oggi parliamo dei teoremi di Euclide. Li abbiamo già visti in aula, ma oggi ci concentriamo un pochino di più sull'aspetto matematico dei due teoremi, che secondo me vi aiuterà nella risoluzione degli esercizi. Allora, prima di partire subito con i due teoremi, facciamo una premessa, quindi un riassunto, su quello che dovete già sapere. I teoremi di Euclide parlano di triangoli rettangoli, quindi si applicano solamente i triangoli rettangoli. Due nozioni che dobbiamo ricordarci dai triangoli rettangoli quando parliamo del teorema di Euclide sono le proiezioni dei cateti sull'ipotenusa. Allora, in questo disegno che ho fatto, ho fatto due sezioni dell'ipotenusa, CH e BH. CH si chiama proiezione del cateto minore sull'ipotenusa, mentre BA proiezione del cateto maggiore sull'ipotenusa, quindi CH relativa a questo cateto e BH relativa a questo cateto. Un'altra cosa che ci dobbiamo ricordare è il concetto di medio proporzionale, quindi in una proporzione che dice A sta da X come X sta a C, questo è il medio proporzionale. Come facciamo a trovare il medio proporzionale in questa proporzione? Il medio proporzionale è uguale alla radice del prodotto dei due estremi, quindi radice quadrata di A per C. Questa è la formula diretta. Possiamo applicare la formula inversa se dobbiamo trovare uno dei due estremi, quindi A per esempio sarà uguale a X quadro fratto C, mentre invece se non abbiamo C, per trovarlo faremo X quadro fratto A. Passiamo quindi al primo teorema di Euclide. Il primo teorema di Euclide dice che in un triangolo rettangolo ogni cateto è medio proporzionale fra l'ipotenusa e la proiezione di quel cateto sull'ipotenusa. Quindi stiamo parlando di due cateti, quindi ci sarà una proporzione per un cateto e una proiezione per l'altro cateto. Quindi consideriamo il cateto minore, in questo disegno AC, AC è medio proporzionale, fra cosa? Fra l'ipotenusa, CB, e la sua proiezione sull'ipotenusa, quindi CH. Quindi si legge CB sta da C come AC sta CH. Consideriamo adesso il cateto AB, che è il cateto maggiore. Anche lui è medio proporzionale. Medio proporzionale fra che cosa? Fra l'ipotenusa e la sua proiezione sull'ipotenusa. La sua proiezione sull'ipotenusa, ricordiamo, che è BH. Quindi leggiamo CB sta da B come AB sta BH. Secondo teorema di Euclide. Il secondo teorema di Euclide lavora sull'altezza relativa all'ipotenusa. L'altezza relativa all'ipotenusa in questo disegno è AH. Cosa dice? Dice che l'altezza relativa all'ipotenusa è media proporzionale fra le proiezioni dei due cateti sull'ipotenusa. Cosa vuol dire? AH, altezza relativa all'ipotenusa, media proporzionale, fra le due proiezioni, quindi CH e BH. Con queste tre proporzioni noi possiamo applicare queste formuline e troviamo tutto quello che ci serve nella risoluzione dei problemi. Ci vediamo nella prossima lezione con la risoluzione di un esercizio. Ciao! Ciao!